Overtrive Seleziona Vortex Usa Turbo Scatto per ottenere punta Una passeggiata No, ci siamo spinti troppo 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 Uno No, ci siamo spinti troppo 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 Pronti Pronti No, ci siamo spinti troppo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Usa turbo e scatto per ottenere punta. Grazie. Salvate la campana. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh no, no, non posso guardare! Grazie a tutti. 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 Usa turbo e scatto per ottenere punta. Via. Negativo. 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 dialogue in socialisto diumeria e avzzurra. Un altro video. Non� popolino. Vai! íanestato in excito. Grazie per la visione Oh sì Veicolo uno eliminato, grazie Aipino Pronti Tre, due, uno Via Un'eliminazione critica Centro perfetto, abbattuto Squadra in vantaggio Un'eliminazione critica Un'eliminazione critica Un'eliminazione critica Vediamo un veicolo danneggiato. Pronti. Via! Starolitra 3, 2, 1. Hai l'assicurazione, spero. Non ci vengi, la vostra squadra è messa avanti. Non ci vengi, la vostra squadra è messa avanti. Non ci vengi, la vostra squadra è messa avanti. Non ci vengi, la vostra squadra è messa avanti. Non ci vengi, la vostra squadra è messa avanti. Non ci vengi, la vostra squadra è messa avanti. Non ci vengi, la vostra squadra è messa avanti. Non ci vengi, la vostra squadra è messa avanti. Non ci vengi, la vostra squadra è messa avanti. Non ci vengi, la vostra squadra è messa avanti. Seleziona un veicolo. Charger Usa turbo scatto per ottenere punto Uccisione confermata Non faranno prigionieri A tutta potenza Non faranno prigionieri 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 Minaccia neutralizzata Minaccia neutralizzata Viene verso di noi Nemico nel mirino Wow, che botta Hai vinto Pronti 3, 2, 1 Via Scusa, come hai detto? 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 Come hai detto? Scusa, 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 come hai detto? Sì, ti sto divertendo Sì, ti sto divertendo Perfetto! 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 Hai perso! Pronti! 3, 2, 1, via! Sì! Sì 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 Grazie per la visione! 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 Conquista la donna! 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 Non ha conquistato. Non ha conquistato. Non ha conquistato. No bazzò. Non ha conquistato. 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 a 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 Lockdown Selecciona Enforcer Conquista la zona Zona conquista Torna persi Qualcuno ha contatto visivo? 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 Arriviamo come tutti. Sono conquistato. Arriviamo come tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.